Un festival innovativo che ribalta il punto di vista dello spettatore che da fruitore dell'opera diventa protagonista. E' questo l'obiettivo del Festival dello Spettatore ad Arezzo, l'edizione Zero. Un ricco cartellone che si concluderà il 23 ottobre, composto non solo da spettacoli ma anche da numerose collaterali che pongono l'attenzione ai percorsi di avvicinamento e coinvolgimento dei cittadini nella produzione culturale. Tra gli appuntamenti in cartellone anche uno dedicato ai più piccoli ma non solo. Il Teatro Petrarca ha infatti aperto le porte giovedì 20 ottobre con una doppia replica mattutina ed una serale al piccolo principe e l'aviatore. Di nomino mio ambasciatore! Credo il re aveva un'aria di grande autorità. Spettacolo di officine della cultura con la drammaturgia di Samuele Boncompagni. Sette musicisti dal vivo su musiche originali di Massimo Ferri e Luca Baldini e con la regia di Amanda Sandrelli. Uno spettacolo per un attore, un'orchestra e un'illustrazione che creano un racconto, un concerto, un intreccio tra musica, teatro, narrazione ed immagini ma anche un gioco in cui tutti sono invitati a ricordare e disegnare. La storia più semplice e allo stesso tempo più intensa per ragazzi ma soprattutto per gli adulti che si sono dimenticati di essere stati bambini.